doppio zero per il trentino è la prima volta dall'inizio della pandemia che non sono stati registrati contagi ed eccessi nelle ultime 24 ore in alto adige invece un nuovo caso un milione di euro questo l'investimento di trentino marketing e piastra dante per ospitare i ritiri calcistici in provincia nella scorsa stagione estiva dai 10 mila euro per il chievo agli oltre 700 mila per il napoli si dimetta e ancora bufera sul presidente del consiglio provinciale walter casvalder dopo che il tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento del suo ex segretario pruner la segretaria del pd lucia maestri costerà tra i 200 e 300 mila euro ai trentini trentino trasporti patrimonio del trentino tsm trentino discussioni la provincia fa i propri nomi le proposte adesso saranno trasmesse al consiglio provinciale un enorme frana è caduta sulla strada alle 6 eventi a valle del passo la base un fortissimo boato e grosse rocce si sono staccate da una parete invadendo l'intera carreggiata viabilità bloccata e controlli per verificare eventuali altri smottamenti 730 online è il servizio offerto da caffacli per fare la dichiarazione dei redditi quest'anno puoi fotografare i tuoi documenti con il cellulare e consegnarli all'esperto fiscale comodamente da casa tua non devi compilare nessun modulo non c'è nessun calcolo da fare quindi non puoi fare errori prova la novità l'iscrizione costa solo un euro 730 online di caffacli incredibili vantaggi in un'unica soluzione www.il730.online www.il730.online.it www.il730.online.it Grazie a tutti.